Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'Ancona archivia con un bottino di quattro vittorie consecutive il ritiro Umbro di Cascia e trasmette ad una piazza già calda sensazioni sempre più positive. Finisce 4-1 l'ultimo test match contro il Fasano, formazione pugliese che milita in Serie D. Dinanzi ad un discreto pubblico, arrivato numeroso dal capoluogo, vista anche la prima uscita stagionale della curva con circa 300 supporters presenti, i bianco-rossi di Colavitto mantengono il pallino del gioco e propongono spunti e trame interessanti. La partita viene sbloccata al venticinquesimo con un diagonale pressoché perfetto, punizione dalla destra, tocco di Paolucci per Di Massimo che si accentra e lascia partire un tiro potente e preciso indirizzato all'angolino alto. Ne passano 11 prima del raddoppio, griffato Petrella al trentaseiesimo. Il numero 7 concretizza un'azione avvolgente che vede protagonista ancora Di Massimo, stavolta nei panni di rifinitore e poi concretizzata con una conclusione vincente. Le rotazioni tipiche della ripresa non fanno mutare l'intensità della gara. In campo rimangono solo De Santis e Paolucci, degli undici iniziali. È Moretti a firmare il terzo gol sul lancio del tersino Brogni. Il quarto gol è questione di minuti e lo segna Lombardi con una classica serpentina delle sue e tiro in diagonale che viaggia spedito sul secondo palo. I pugliesi accorciano le distanze dopo una prova generosa al trentasettesimo con il rigore di Di Federico. Vittoria convincente dunque per l'Ancona che ora avrà qualche giorno di meritato riposo. I Dorici riprenderanno a lavorare martedì pomeriggio al Paolinelli, giovedì diciotto alle ventuno la presentazione al Porto Antico, mentre sabato venti alle diciassette e trenta l'amichevole Ammatelica.